è scoppiata la nutella mania nel cilento e la corsa al voto online per votare la città di castellabate e vederla raffigurata sul vasetto del famoso brand di casa ferrero il nostro comune ce l'ha fatta fanno sapere da palazzo di città siamo in gara per il concorso ti amo italia promosso da nutella insieme a procida vorresti vedere anche tu castellabate sul vasetto esprimi la tua preferenza votando i luoghi che ti stupiscono di ogni regione e poi continua le fotografie più votate saranno raffigurate nella nuova limited edition nutella per votare bisogna visitare il sito ufficiale www.nutella.com fino alle ore 23 59 del 6 giugno 2021 e andare nella sezione del concorso ti amo italia e votare per castellabate cliccando sul cuoricino una grande opportunità per pubblicizzare la città di castellabate che è notoriamente conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellezze paesaggistiche e alle numerosissime iniziative internazionali organizzate dal comune in questi giorni i social sono inondati da simpatizzanti cittadini fan cilentani che promuovono il voto per castellabate e commentano entusiasti l'iniziativa anche la nostra redazione ha votato ma l'appello è per tutti augurandoci che insieme possiamo portare castellabate alla vittoria